La crisi incide in modo pesante sull'Emilia-Romagna. Lo rivela l'indagine congiunturale sull'ultima parte del 2011 e sulle previsioni del 2012 realizzate da Union Camere e Confindustria con Carisbo. Nel quarto trimestre 2011, infatti, si è interrotta la lenta ripresa avviata nel 2010. Produzione e fatturato sono rimasti invariati, mentre gli ordini sono in calo. Per il 2012 è previsto un calo del PIL regionale dell'1,5%, con contrazione di fatturato, ordini, investimenti e occupazione. La crisi si sta accentuando, è il parere di Union Camere, secondo cui occorre affrontare le difficoltà focalizzando le linee di intervento su azioni integrate. L'obiettivo è creare le condizioni per imboccare un nuovo sentiero di sviluppo sostenibile. Le prospettive di diminuzione del PIL regionale sono confermate da Confindustria. Il quadro regionale e il clima di fiducia degli imprenditori sono bruscamente peggiorati, analogamente al contesto nazionale. A soffrire di più sono le imprese più piccole, meno orientate all'export, mentre tiene il sistema metalmeccanico. Il saldo, tra imprenditori ottimisti e pessimisti, però è peggiorato. È urgente, secondo Confindustria, riattivare la dinamica di crescita, passando da parte del Governo da una fase di prelievo-recessione ad una fase di riforma-crescita. Anche il credito, secondo Carisbo, ha segnato un rallentamento nella seconda metà del 2011, che è proseguito nel 2012. Permangono le difficoltà nel contesto operativo, caratterizzato dalla ricaduta in recessione della nostra economia, sostiene Carisbo, che frena la domanda di credito e giustifica la prudenza nelle decisioni finanziarie.